Oh, ma dove sei? Qui abbiamo fame! Sono da McDonald's, non ti preoccupare, arrivo! Ma perché hai dei palloni sotto braccio? Non dovevi andare a prendere da mangiare? Sì, ma dal 3 al 16 luglio 2024, acquistando un McMan, un large, un Happy Meal, con un contributo di 2 ore e 60, puoi avere subito un pallone da pallavolo o uno da calcio. Guarda che belli, guarda! Ok, ti aspettiamo! Ciao! Raga, che dite? Partitella? Ma a cosa si gioca? Io voto la pallavolo! Pallavolo! Sì, sì, ragazzi! Raga, abbiamo entrambi i palloni, problema risolto! Signore e signori, siamo qui oggi perché? Per assistere alla partita del secolo! E riuscirà la nostra squad a decidere se giocare a calcio o pallavolo con i nuovi palloni in McDonald's? Ed ecco le squadre pronte a scendere in campo, ci siamo! Io faccio il mio sport preferito, lo spettatore! Gran colpo di testa, entrata! Fuori! Ma era dentro! Verifichiamo! Ma che schiaccio t'ha fatto? Incredibile! Pausa! Trampi! Ma non abbiamo nemmeno iniziato! Guarda, hai fatto benissimo a non venire, qui corrono tutti una stanchezza! Non mi sembra che tu ti stia stancando tanto a dir la verità! Colpito e affondato! A chi li devo passare? A chi li devo passare? Ok, noi a fine giornata prendiamo la palla da pallavolo per i gemelli! E io prendo quella da calcio per i miei figli!